Salve a tutti, oggi si è tenuta una conferenza a stampa che ha visto l'onorevole Coltraro annunciare l'ascesa in campo nelle amministrative ad Augusta del 2015 del Movimento Sal di cui è Presidente. Onorevole Coltraro, quale sarà il vostro programma politico? Il nostro programma politico è quello di affrontare concretamente e come non mai tutte le problematiche che la città di Augusta ad oggi ha e soprattutto a seguito dell'andamento dell'attività amministrativa e del commissariamento per mafia che si è avuto negli ultimi anni. I problemi sono tanti e sono gravi, noi abbiamo l'idea di rilanciare sotto un profilo economico il Comune e quindi i temi di interesse economico saranno alla base, in quanto senza nuove attività lavorative, senza lo sviluppo del Comune sicuramente non è pensabile di risanarlo con nuove imposte locali che da quello che ci risulta i commissari invece hanno deciso di aumentare. Noi vogliamo intanto mantenere l'autorità portuale di Augusta come autorità portuale centrale all'interno del sistema delle autorità portuali regionali, in quanto è l'unica autorità portuale che è entrata all'interno della rete europea dei trasporti, quindi l'unica autorità portuale che può ottenere i finanziamenti riguardanti le aree vaste e ritengo che sia la candidata principale per ottenere la presidenza della Confederazione delle autorità portuali della Sicilia orientale. Per quanto riguarda l'argomento Tasi, Tari, che quindi appunto è nello specifico la tassazione? Per quanto riguarda questo argomento noi intendiamo fare una battaglia politica perché è impensabile che all'interno del Comune di Augusta, in cui i cittadini, le imprese stentano perché non si riesce più a esercitare un'attività economica in maniera naturale a seguito dell'alone mafioso che purtroppo per ora è presente all'interno del nostro Comune, pensare di risolvere il problema aumentando più degli altri comuni della provincia la Tasi con un'imposizione esagerata significa stroncare le attività economiche già esistenti e molte delle quali da quello che ci risulta hanno deciso di chiudere e dall'altro lato significa far sì che nuove attività economiche non vengano iniziate nel Comune. Questo significa la morte della città di Augusta. Chiaramente. Qual è la posizione di Salla a proposito delle emergenze immigratiche che colpisce purtroppo il nostro territorio? Noi per quanto concerne la problematica degli immigrati ci siamo spesi dalla prima ora. Siamo stati sempre attivi da quando questo problema si è verificato nel Comune di Augusta. Siamo stati artefici della possibilità di ottenere per il Comune di Augusta insieme a quello del Comune di Porto Paolo dei fondi per l'emergenza dell'accoglienza. Infatti sono stati stanziati dal Governo regionale 500 mila euro per i due comuni e il gruppo parlamentare di cui io facevo parte, il megafono, è stato il gruppo parlamentare che ha proposto l'emendamento su mia richiesta alla mini finanziaria regionale che ha portato questi fondi. L'obiettivo è quello di cercare di mediare gli interessi della cittadinanza con le problematiche reali che hanno gli immigrati e queste persone che purtroppo scappano da loro paesi per trovare accoglienza nei nostri. L'idea è quella di realizzare a seguito dei fondi già ottenuti, dei fondi che è possibile ottenere successivamente con vari provvedimenti sia regionali sia nazionali, dei centri di accoglienza di avanguardia al di fuori del centro abitato e che siano in grado di offrire a tutti coloro che sbarcheranno all'interno di questo porto quei servizi essenziali sia sanitari sia di prima assistenza che ad oggi purtroppo non è possibile offrire ad Augusta che è uno di quei comuni che è carente di ogni tipo di struttura. Nonostante il Ministero degli Interno abbia individuato il Comune di Augusta come uno di quei comuni che deve dare la prima accoglienza soprattutto ai minori che dovevano stazionare all'interno del Comune di Augusta paradossalmente non è stato dotato né lo era prima di strutture che possono dare una prima accoglienza ai minori. Quindi l'obiettivo del SAL è cercare di creare una struttura di prima accoglienza dei minori che proprio perché a mio giudizio deve essere collocata al di fuori del centro abitato in modo tale che sia anche collegato con la rete stradale o con la rete portuale e non certo all'interno del centro storico e per l'appunto deve essere una struttura che venga calata sul territorio per, come abbiamo detto all'inizio dell'intervento, risolvere sia le problematiche dei nostri cittadini sia le problematiche dei migranti. Grazie Onorevole Coltraro. È tutto. Rassegna Metropolitana a Jessica Bellistri. Grazie a tutti.